Seconda vittoria in due giorni, sai chi ci era riuscito? 20 anni fa Popovic, Piva e Belvedere. Adesso tu dopo 20 anni, contento? Sì, la verità è che sto molto contento e voglio ringraziare alla squadra perché oggi hanno fatto un lavoro incredibile e grazie a loro abbiamo potuto vincere. In salita dei più forti lo sapevi, hai attaccato nel punto più duro? Sì, ho iniziato la salita piano, saprei che dopo la pianura era il buon momento per attaccare, ho sperato, oltre ai corridori hanno provato da partenza, dal principio, e ho pensato che lo miglior era sperare un po' e dopo la pianura a tuta.